Dallo l'andata 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 insomma ma c'è una squadra abbastanza bella da fare qualche divertimento qualche domenica sì e noi non siamo qui più di dieci macchine non giriamo aspetta che vedi, ma do un attimo vedi ma voi da dove siete ragazzi? da dove siete? sì, è vero, abbiamo fatto gare di l'istante